Il senso principale della giornata è la vicinanza del Governo nazionale alla Regione Calabria. Ringraziato il Presidente Spirlì per aver lavorato fianco a fianco con il Governo, con la protezione civile, per tutta la giornata di oggi, da Cosenza a Crotone, arrivando qui a Catanzaro. Il Governo c'è. La Regione Calabria e i calabresi devono sapere che il Governo c'è e c'è su tutto. Dall'emergenza sanitaria che continueremo ad affrontare insieme e dobbiamo affrontarla per l'emergenza acuta con il sostegno delle Forze Armate, delle Forze dell'Ordine e di tutti i volontari che ci stanno aiutando, così come per gli interventi strutturali. La Regione Calabria merita una sanità più forte. molte delle strutture che sono state ridimensionate, bisognerà valutare il loro rafforzamento, lo dico senza giri di parole. L'Europa tutta ha preso atto che diritti universali come salute e scuola non potranno mai più essere compressi da vincoli di bilancio. La Calabria, da questo punto di vista, come gran parte del Mezzogiorno, ha avuto un ridimensionamento anche per questi motivi, non solo per questi motivi. Poi l'altra parte del ridimensionamento è legato agli scandali, alle ruberie che ci sono state. E su questo i calabresi devono aiutarci a vigilare, a stare accanto alla magistratura, a stare accanto alle Forze dell'Ordine che ci aiutano ad intervenire. E mai come in questo momento il Governo c'è e è al fianco di tutta, tutta, tutta la Calabria per bene, che è la stragrande maggioranza di una terra eccezionale che noi vogliamo aiutare, vogliamo sostenere. Ed è un lavoro che faremo insieme senza distinzione di colori. Qui non ci sono casacche. C'è l'impegno assoluto del Governo. Per queste ragioni abbiamo fatto partire questa mattina l'ultimo miglio dei lavori finali dell'ospedale da campo di Cosenza che aiuterà molto la provincia di Cosenza e la città di Cosenza e dal primo dicembre sarà operativo, sarà operativo con i test, con gli esiti dei test che saranno seguiti direttamente dal Celio, così come di tutti i servizi che serviranno. E voglio chiarirlo, non è questa la sanità di domani, è la sanità dell'emergenza acute e assoluta. Ci sono 14 regioni in Italia che hanno ospedali da campo militari, 14, non una. La Calabria non è la prima e non è l'ultima. E ci saranno sempre, ogni volta in cui avremo bisogno, sappiamo che l'esercito, la marina e tutte le forze armate ci saranno. E per questo li abbiamo ringraziati e lo abbiamo fatto al Presidente Spirli a Cosenza. A Crotone abbiamo lavorato sui danni e disastri dell'alluvione con il capo della protezione civile, di Borrelli. Ho ringraziato le protezioni civili, ovviamente della regione Calabria che ha fatto un lavoro eccezionale, ma anche della regione Puglia, della regione Basilicata e della regione Campania che hanno aiutato la protezione civile, perché anche questa è l'Italia. Le regioni che vanno in difficoltà sono aiutate anche dalle altre regioni con un grande senso di collaborazione. E oggi qui a Catanzaro abbiamo completato una conferenza Stato-Regioni che, se mi permette, è anche non solo il simbolo di questa idea che c'è di attenzione verso la Calabria, ma è la prima volta nella storia che avveniva qui la conferenza Stato-Regioni. Abbiamo approvato decine di provvedimenti importanti sulla salute, sulle politiche agricole, sullo sviluppo economico, di natura economico-finanziaria, di riparto di risorse per le disabilità. Abbiamo fatto un lavoro con una parte consistente del governo e con tutte le regioni italiane, tutti i comuni e tutte le province. È avvenuto qui, da questa sede che è molto bella, e l'abbiamo fatto anche in memoria di Iole Santelli, che ci manca tanto, alla quale dobbiamo non solo il ricordo e l'affetto per quanto ha servito le istituzioni, ma lo dobbiamo anche per il tentativo che si è fermato di necessità di imprimere un cambiamento, un cambiamento che non ha un colore politico. La Calabria che riparte è l'Italia che si riscatta ed è un lavoro che dobbiamo fare insieme. Per questa ragione ci torneremo spesso, con il Presidente Spirlice, una collaborazione quotidiana, così come con tutto il sistema delle rappresentanze istituzionali, dei sindaci e dei Presidenti di provincia. Non c'è alcuna distinzione, vorrei che fosse chiaro, di colore politico, in questo momento i calabresi hanno bisogno dello Stato che faccia lo Stato e lo faccia a fianco a tutte le articolazioni. Non possiamo lasciare solo la magistratura nel lavoro che sta facendo, non possiamo lasciare gli operatori sanitari per il lavoro eccezionale, per il quale noi abbiamo il dovere di ringraziarli ogni giorno. Siccome non si possono lasciare soli, ognuno di noi deve fare nel suo piccolo e proprio dovere.